Firmato il piano anti-covid della Calabria dal nuovo commissario d'acta della sanità in Calabria Guido Longo, il piano è sul tavolo dei ministri della salute e dell'economia in attesa della validazione. Il programma operativo per fronteggiare l'emergenza sanitaria scatenata dalla diffusione del coronavirus in Calabria è stato realizzato e firmato in poco tempo per sanare il vuoto e i ritardi accumulati dall'ex commissario Cotticelli, poi dimessosi dopo le dichiarazioni rilasciate in televisione. Gli obiettivi del commissario Longo sono dunque 26. Longo dovrà inoltre garantire i livelli essenziali di assistenza. Il commissario, come recita il decreto di nomina, potrà avvalersi di una struttura composta da 25 persone e dovrà attuare i programmi operativi 2019-2021, proseguire l'attuazione del piano di rientro, nonché di tutti gli interventi necessari per garantire in maniera uniforme sul territorio regionale l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza in condizioni di efficienza, appropriatezza, sicurezza e qualità, nei termini indicati dai tavoli tecnici di verifica, IVI compresa l'attuazione del Decreto Legge 10 novembre 2020 numero 150. Nell'ambito di questa cornice sono indicate le azioni e gli interventi necessari. Tra i compiti c'è anche quello di riorganizzare la rete ospedaliera. Il nuovo commissario dovrà infatti adottare ogni necessaria iniziativa, al fine di ricondurre il livello di erogazione dei livelli essenziali di assistenza agli standard di riferimento, in particolare con riguardo l'adessione agli screening oncologici, all'assistenza territoriale e alla qualità della sicurezza dell'assistenza ospedaliera. Dovrà inoltre attuare il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera e della rete di emergenza-urgenza, in coerenza col fabbisogno assistenziale. L'ONGO dovrà ancora definire e attuare le reti cliniche specialistiche e avviare il monitoraggio delle procedure per la realizzazione dei nuovi ospedali, oltre al completamento del riassetto della rete dei laboratori e di assistenza specialistica ambulatoriale.